Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Questa è la terza parte della serie di video in cui mostro i tweak e le applicazioni scaricabili da Cydia più utili e soprattutto compatibili con iOS 6 6.0, 6.0.1, 6.0.2 e 6.1 Allora, il primo tweak con cui iniziamo è Swipe Selection Cosa fa questo tweak? Questo tweak consente di andare a sostituire il classico modo per andare a spostarsi nelle parole che è con la lente di ingrandimento istruzione da Apple a utilizzare la tastiera Cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado a fare uno swiper verso destra sulla tastiera andiamo a destra se lo facciamo verso sinistra, andiamo a sinistra ed è davvero molto molto più comodo che andare a utilizzare la solita e vecchia lente di ingrandimento Quindi questo è Swipe Selection Il secondo tweak si chiama Barrel ed è quello che mi consente di andare a creare le applicazioni tra le varie pagine delle applicazioni Allora, andando su Impostazioni possiamo modificare le impostazioni di Barrel facendo in modo da selezionare l'animazione da mettere tra le varie pagine Ad esempio abbiamo visto Carl and Roll Away Adesso proviamo a vedere Cube Come vedete dà l'impressione di un cubo tridimensionale sulle quali facce sono state applicate le icone Però diciamo che quello che tutti preferiscono è Carl and Roll Away Per cui è quello che terrò anch'io Il terzo tweak è Byte a Font Questo tweak che cosa consente di fare? Consentere di andare a cambiare il testo su tutto il dispositivo oppure su soltanto alcune sezioni che andiamo a selezionare noi Ad esempio io ho cambiato il font solo della Lock Screen dell'orologio Lock Screen Clock e dentro ho messo appunto il primo font che vedete Per andare a cercare altri font è sufficiente andare sul browser selezionare Fonts in alto dopodiché selezionare ad esempio Most Recent cioè più recenti poi aprire uno di quelli presenti ad esempio questo vi sarà un'anteprima che mostrerà appunto come si presenta il font e infine sotto tutto abbiamo il tasto Installa che una volta premuto ci reindirizzerà Cydia con il font appunto da installare una volta installato il font sarà sufficiente tornare sull'applicazione Byte a Font andare su Advanced scegliere quale sezione vogliamo che si è applicato appunto un nuovo font e dopodiché effettuare un re-spring come vedete il font del mio orologio è diverso da quello di Apple inoltre abbiamo i secondi che si muovono quindi come ho fatto ad aggiungere secondi all'orologio? ho utilizzato Spring Tomize 2 questo tweak è scaricabile da Cydia e è compatibile appunto sia con iOS 5 che con iOS 6 possiamo andare a modificare tutte le animazioni possiamo aggiungere e togliere funzioni modificare il dock, nasconderlo andare a modificare le impostazioni della lock screen come ad esempio qua vedete ho messo Mostra Secondi e possiamo anche andare a modificare un sacco di altre cose come ad esempio la status bar possiamo nascondere ad esempio l'icona di Airplay possiamo andare a cambiare il nome dell'operatore possiamo cambiare l'orologio con un testo personalizzato possiamo veramente fare di tutto quindi questo era Spring Tomize 2 infine abbiamo un'applicazione che si chiama iCleaner questa applicazione consente di andare a rimuovere tutti i file temporanei e i collegamenti inutilizzati sul nostro iDevice come vedete selezionando con le varie spunte potremo andare a selezionare quali opzioni andare ad attivare per eliminare i file e ad esempio io qua ho selezionato tutto tranne sorgenti cilia perché una volta avendo fatto la pulizia delle sorgenti cilia è necessario riaggiornare l'intera applicazione quindi io ho effettuato questa procedura soltanto una volta dopo che avevo comprato l'iPhone 5 dopo circa un mese e mi ha trovato 700 MB di file da eliminare quindi diciamo che aumenta le prestazioni del vostro dispositivo anche se comunque su iPhone 5 non si notano praticamente i rallentamenti quindi niente questi erano i 5 tweak di oggi spero di esservi stato utile se avete domande lasciatele nella sezione qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti